Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trashy, in diretta da casa mia, e oggi sono qui per parlarvi in anteprima di Five Nights at Freddy's, film del 2023, diretto da Emma Tammi. Film che è tra l'altro una trasposizione cinematografica del videogioco, tra l'altro uscito nove anni fa, di Scott Cawthon, che si trova anche a scrivere la sceneggiatura di questa trasposizione cinematografica dell'omonimo videogioco. Tra l'altro una serie, una lunga serie di videogiochi di Five Nights at Freddy's, molto prolifica, di ben undici stagioni, diciamo così, ecco, di cui tra l'altro quattro spin-off. C'è a dire che alla produzione di questo film, ciò che tra l'altro mi ha fatto davvero incuriosire tantissimo per andarlo a vedere in sala, non è stato nient'altro che la Blumhouse, la Blumhouse che comunque ultimamente sta distribuendo e producendo anche numerosi film horror molto davvero interessanti. C'è a dire che inizialmente l'idea di fondo mi ricordava tantissimo Willis Wonderland, che prossimamente approfondirò in una recensione perché sinceramente è un film che mi è piaciuto tantissimo, con un grandioso Nicolas Cage come protagonista che non pronuncia neanche una battuta, è semplicemente tutto muto il suo personaggio nella sua interpretazione, con un budget Five Nights at Freddy's di 20 milioni di dollari, ne sta incassando veramente tantissimi, al botteghino naturalmente, in America, visto che comunque il film è stato distribuito il 26 ottobre di questo 2023 in Italia, è arrivato oggi in anteprima nelle stade cinematografiche italiane, ma uscirà ufficialmente il 2 novembre e quindi per questo motivo naturalmente vi dicevo, o avevo delle buone aspettative a riguardo di questo Five Nights at Freddy's, visto che comunque nonostante avessi una buona fiducia nei confronti di questo progetto, purtroppo ammetto di non aver mai giocato, quindi essendo un ignorante totale a riguardo del videogioco appunto di Five Nights at Freddy's, non potevo minimamente sapere quali fossero le citazioni videoludiche alla suddetta trasposizione cinematografica, come vi dicevo anche curata dal punto di vista della scrittura, dallo stesso realizzatore del videogioco. Naturalmente non volevo giudicare il videogioco, quindi sappiate che questa recensione non sarà un confronto tra il videogioco, visto che non l'ho neanche giocato e sono ignorante, totalmente ignorante a riguardo della materia videoludica, ma sappiate che giudicherò semplicemente soltanto il film. Non a caso ecco la storia è una storia abbastanza semplice, niente di originale diciamo, sono mai interessante, qualcosa che comunque mi ha portato a vederlo in sala ovviamente. Probabilmente le grandi produzioni hanno sempre come al solito problemi, sempre i soliti problemi di produzione, anche questo Five Night at Freddy's non è stato naturalmente messo da parte, questi problemi di produzione che sono sorti dal 2015 e per questo motivo naturalmente avevano addirittura pensato di distribuirlo e produrlo quelli dalla Warner, ma dopo numerosi problemi produttivi naturalmente a comprare i diritti è stato proprio Blumhouse e naturalmente doveva esserci addirittura, pensate un po', Chris Columbus alla sceneggiatura e probabilmente anche alla regia si vociferava che ci sarebbe stato Chris Columbus, chissà che film ne sarebbe uscito fuori se fosse stato dietro alla produzione, comunque al prodotto, a questo prodotto Chris Columbus che comunque ha realizzato dei film molto interessanti, ha scritto la sceneggiatura di Gremlins, vorrei ricordare, comunque è un film che è rimasto nell'immaginario collettivo, quindi mi aspettavo, mi sarei aspettato sicuramente un film meraviglioso. Naturalmente a sto giro hanno pensato di chiamare Emma Tammi, che insomma è sordiente dal punto di vista cinematografico, questo è il suo primo grande film come regista cinematografica di un film così imponente, soprattutto per via della produzione, nonostante un budget scarsissimo, 20 milioni di budget, essenzialmente è un budget molto ridotto per quanto riguarda uno di questi film, tra l'altro distribuito e prodotto dalla Blumhouse, come vi dicevo. Quindi effettivamente questo è la sua, per quanto gli riguarda almeno personalmente per Emma Tammi, è la sua prima esperienza cinematografica, quindi un esordio alla regia con un film davvero di grandi proporzioni, perché comunque sarebbe stato distribuito in Italia, almeno, anche comunque nel mondo. Ma ovviamente Emma Tammi dal punto di vista registico realizza una regia abbastanza pulita, scolastica, insomma essenzialmente una regia abbastanza ordinaria, l'impronta della regista è abbastanza scolastica, se vogliamo, ecco, molto naturale, ha un approccio molto classico proprio dal punto di vista della messa in scena, non c'è nessuna innovazione tecnica in realtà, diciamocelo, però essendo il suo primo film importante per la regista, comunque ha voluto fare bella figura utilizzando dolli, carrelli, carrelli circolari e così via. Ho apprezzato davvero tanto, anche e soprattutto la fotografia, la fotografia completamente oscura, cupa, spenta, dark, diciamocelo, oscura, visto che comunque è ambientato in contesti totalmente notturni, infatti il titolo suggerisce anche un'ambientazione notturna, visto che comunque Five Nights at Freddy's sono proprio letteralmente cinque notti a Freddy's, quindi letteralmente è proprio questa l'ambientazione, anche la monolocation di questa pizzeria davvero interessante, tra l'altro, che mi ha ricordato tantissimo, come vi dicevo anche prima, Willis Wonderland, quindi devo ammettere che l'idea principale mi piaceva, infatti anche la scrittura per quanto mi riguarda, è essenzialmente un survival horror, se vogliamo, ma in realtà è una semplice storia abbastanza prevedibile per certi aspetti, ricca, infarcita di situazioni piuttosto ordinarie, una sceneggiatura abbastanza lineare, diciamocelo, sicuramente scontata la scrittura in alcuni passaggi, per quanto riguarda poi invece i colpi di scena, se vogliamo proprio dirla tutta, sono abbastanza prevedibili, ovviamente immancabili jumpscare che in realtà sono veramente ridotti al minimo per un film che doveva essere tratto da un videogioco che ha fatto spaventare milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto anche poi i seguiti che hanno fatto, quindi la serie di 11 videogiochi su Five Nights at Freddy's, ovviamente i quattro spin-off non sono messi da parte assolutamente, come vi dicevo, anche Scott Coughton che è lo sceneggiatore, nonché l'ideatore del videogioco, ci ha messo lo zampino, ha realizzato la sua trasposizione cinematografica, ha trasposto, ha adattato in chiave cinematografica quello che era il suo videogioco, ma vi devo dire la verità, sinceramente non ho apprezzato granché la scrittura dei personaggi, visto che sfortunatamente hanno veramente una bidimensionalità, una piattezza, ci si empatizza poco con i protagonisti, anche perché tra l'altro come protagonista abbiamo Josh Hutcherson, ovviamente il fu Pita di Hunger Games, star di Hunger Games, che qui lo vediamo nei panni di questo ragazzo, insomma che vive con la propria sorellina e che cambia continuamente lavoro da una settimana all'altra perché ha un disturbo dello stress post-traumatico, visto che ha visto rapire suo fratello e il suo fratello minore, quindi ovviamente è rimasto traumatizzato da questa cosa e il film sì, diciamo, ci fa empatizzare con il suo personaggio, ma non in maniera così tanto eccessiva. Abbiamo anche Elizabeth Leil, che interpreta Vanessa, questa poliziotta, questo agente di polizia che va incontra ogni tanto o qualche sera a Freddy appunto il protagonista, Mike lo mette in guardia sui pericoli che possono esserci con questi animatroni e naturalmente abbiamo anche Piper Rebbio, che interpreta Abby, che essenzialmente è la sorellina minore, si avvale comunque di una discreta interpretazione, per non parlare anche di un personaggio o comunque di un attore che è l'unico attore più celebre insieme a Josh Hutcherson nel cast, nonché appunto Matthew Lillard, che torna dopo parecchi anni a vestire i panni di un personaggio importante comunque in un film cinematografico e devo ammettere che il suo ritorno nell'estate cinematografica comunque come attore, quindi il suo ritorno su grande schermo, l'ho apprezzato anche se in realtà mi sarei aspettato decisamente di più da Matthew Lillard comunque nelle vesti di questo personaggio alquanto ambiguo, ma non vi voglio svegliare di più e naturalmente come vi dicevano, i personaggi, se vogliamo, coprotagonisti di questa storia, quindi comprimari non sarebbero nient'altro che questi animatroni, cioè Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy naturalmente, che sono i protagonisti animatroni di questo film, di questo Five Night at Freddy's, ovviamente il nemico dal quale scappare ovviamente, quindi essendo un survival movie, se vogliamo proprio metterla su questo piano ecco, anche se in realtà non è completamente un survival movie, questo Five Night at Freddy's è semplicemente un se vogliamo horror drammatico, thriller, sì, senza essere un survival, ma che comunque fa il suo dovere, sì, certo, nonostante le sue prevedibilità, le sue banalità, situazioni ordinarie, probabilmente il fatto è che non ho apprezzato granché anche il finale, che l'ho trovato abbastanza prevedibile, scontato, come in realtà quasi tutto il film, in realtà no, ecco, perché comunque anche i dialoghi sono scritti in maniera abbastanza ingenua, purtroppo, forse è stato fatto apposta probabilmente, ma vi confesso che la scrittura dei dialoghi, comunque i dialoghi li ho trovati abbastanza scritti un po', diciamo così, in maniera abbastanza rudimentale per certi aspetti, ecco, se vogliamo proprio definirli tali, però ecco, il finale per esempio, come vi ho detto, lascia una porta aperta a un eventuale Five United Freddy's 2, quindi probabilmente vedremo un seguito di questo film, bisogna anche vedere che cosa farà, ecco, quanto incasserà nel resto del mondo, questo Five United Freddy's, tra l'altro vi segnalo una scena dopo i titoli di coda, a metà dei titoli di coda, che comunque è soltanto una scenetta abbastanza carina, divertente, ma senza essere eccessivamente preponderante nel dire che faranno un seguito, ecco, diciamo così, fortuna vuole che il film abbia una connotazione anche per, in alcune situazioni, alcuni momenti, abbastanza umoristica, non è che si va sulla commedia nera, però ecco, ci sono un paio di momenti che fanno abbastanza, non dico ridere, però insomma, fanno anche un po' riflettere per certi aspetti, un po', ecco, lo spettatore. Non lo so, colpa forse di una sceneggiatura scritta a sei mani, comunque anche dallo stesso realizzatore del videogioco che probabilmente aveva intenzione di scrivere una storia del tutto diversa, chissà mai, ma valla a sapere, comunque non l'ho apprezzato granché la scrittura dei personaggi, la scrittura dei dialoghi, è un po' come è stato narrato il film, la sua narrazione. Per quanto riguarda, appunto, vi dicevo, i colpi di scena sono abbastanza prevedibili, scontati, banali, se vogliamo, ecco. Non credo che il film volesse pretendere molto da chi lo guardasse, appunto, io ho trovato questi errori perché comunque, confesso che il ritmo del film, essendo tra l'altro abbastanza dilatato, si può dire, ecco, perché il film dura circa un paio d'ore, si sentono e come queste due ore, questa durata di circa due ore, quindi effettivamente la tensione, la suspense, per quanto ben dosata in numerose sequenze del film, ha fatto il suo dovere, certo, senza ombre di dubbio, ma ovviamente, probabilmente alcune situazioni l'avrei ridotte, comunque avrei tagliato molte sequenze abbastanza futili, se vogliamo, ecco. Personaggi che non servono a niente letteralmente nel film, che poi proprio vengono presentati e poi non servono più a niente. Ecco, per esempio, questa è una scrittura un po' scritta in maniera svogliata, ecco, una scrittura svogliata della sceneggiatura per quanto mi riguarda, però tant'è. Comunque, almeno è apprezzabile, quindi per quanto alla fine il ritmo sia abbastanza lento, troppo lento forse, diciamo che su uno dei suoi grandi punti a favore su questo Five Nights at Freddy's non sono nient'altro che gli effetti speciali, nonché gli animatronics, che sono abbastanza buoni dal punto di vista proprio di come sono stati realizzati in maniera abbastanza simile a quelli del videogioco, perché comunque poi mi sono documentato al punto di vista proprio del design di questi animatroni, e sono stati curati abbastanza bene da questo punto di vista. Naturalmente, condito tutto dalle musiche, dalla colonna sonora dei Newton Brothers, che realizzano una colonna sonora elettronica realizzata al sintetizzatore, molto agnotata naturalmente, molto vintage, ecco, molto retro, che fa il suo dovere in alcune sequenze, ma mi aspettavo decisamente di meglio dei Newton Brothers che avevano realizzato una colonna sonora decisamente, se vogliamo, un po' più memorabile in Doctor Sleep. Ecco. Comunque sia, per quanto mi riguarda personalmente, posso dire che il film è valutabile con un 6, il voto infatti che assegno a questo Five Nights at Freddy's non è nient'altro che un 6, perché si tratta di un film semplice, un film gradevole, un film poco pretenzioso e di buon intrattenimento per qualche spettatore che non ha queste grandi pretese nel vedere un film come questo. Io sinceramente non sapevo cosa aspettarmi in sala, ero abbastanza fiducioso, ero piuttosto ottimista per quanto riguarda le mie aspettative su questo Five Nights at Freddy's, però ecco, posso dire che sarebbe adatto a una visione sicuramente halloweeniana, ecco, nel periodo di Halloween sarebbe adatta alla visione di questo film per passare su sicuramente una serata in divertimento, in compagnia sicuramente, ecco. Però ecco, è adatto al clima di Halloween ma ovviamente non è un film perfetto, ovviamente come tutti i film del mondo, dopo tutto, però ecco, diciamo che ultimamente la Blam House sta realizzando dei film piuttosto interessanti, piuttosto carini, ma che però peccano per certi aspetti su alcuni punti, tipo la scrittura della storia, della sceneggiatura, che per quanto forte possa essere o debole comunque, deve essere interessante per chi lo guarda, quindi sinceramente vi dico la verità, io non ho avuto il minimo interesse nel seguire le vicende di questo protagonista tormentato dai suoi fantasmi del passato. Sfortunatamente il film non è questo gran film, vi confesso, quindi non posso far altro che consigliarvelo nel caso, perché comunque non è un film sconsigliabile, anzi assolutamente, è tutto il contrario, anzi potrebbe essere un film abbastanza interessante da recuperare, da poter vedere in una serata per festeggiare la notte di Halloween, ecco, quindi nel caso foste andati oggi a vedere questo film nelle sale, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché sinceramente l'ho apprezzato nel suo piccolo, ecco, perché probabilmente potrebbe diventare un piccolo cult col passare degli anni, vado a sapere. Comunque diciamo che il cast è stato abbastanza sprecato su tutti Matthew Lillard e Josh Hutcherson, che sono comunque i nomi di punta di questo film, quindi è un film che mi sento di non bocciare del tutto, perché comunque ha a suo favore gli effetti speciali, una colonna sonora abbastanza carina, momenti di tensione di suspense ben dosati, ben curati, soprattutto da una regia abbastanza classica, ordinaria, scolastica, ma ovviamente purtroppo coadiuvata da una sceneggiatura non brillante, ecco, diciamo, con dialoghi abbastanza ingenui, abbastanza banali. Quindi con questo non posso far altro che salutarvi e ci rivediamo in un altro prossimo video. Buon Halloween e ciao a tutti!